Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, ieri è uscita finalmente una nuova sbc hero e stavolta l'overall che possiamo andare a trovare è di massimo 88 per cui ci andiamo a vedere insieme quali sono tutti gli hero possibili all'interno di questa sfida e soprattutto quali di questi vale effettivamente la pena andare a mettere in campo. Andiamo a vedere dunque gli eroi possibili all'interno della sfida e il primo è a via mascherano valutazione 88 perché vi ripeto ovviamente questa sfida ha un overall in più che è possibile trovare al suo interno un giocatore che ovviamente quando andiamo a pescare siamo molto delusi perché è un difensore centrale di 1,74m playstyle plus della scivolata niente di incredibile come posizione alternativa ha il cdc ma è bassino e quindi nonostante abbia anche il playstyle bianco dell'intercetto non è che faccia un gran che quindi onestamente il buon mascherano lo andrei a schippare e riciclare in un'altra sfida cosa che invece chiaramente non andrei a fare con Totò di Natale perché probabilmente è il top adesso da poter trovare nel reparto offensivo giocatore stracompleto brevilinio agile 4-4 il tiro a giro può farvi anche la S è molto veloce ha un ottimo tiro e come vi dicevo c'è il playstyle plus della girella che è molto performante così come anche la trivela bianca che dà sempre una mano e in più c'è il falso 9++ come ruolo che fa il suo quindi bene bene di Natale per me in attacco è il top poi abbiamo Diego Milito un 3-4 di 1,83m onestamente questo non è che mi faccia impazzire perché è un po' tronco nel muoversi non è straveloce un giocatore che poi c'è il playstyle plus del pallonetto c'è l'attaccante avanzato plus plus ma onestamente poca roba il principe che diciamo poteva essere fatto un pelino meglio Natin Kessler invece è una carta secondo me che potrebbe andare sottovalutata all'interno di questa sfida perché è vero che è una carta di una giocatrice bassina perché 1,69m anche se comunque non tanto 1,70m 4 skill e 3 di piede debole giocatrice col playstyle plus del filtrante che dà sicuramente una mano in fase di impostazione quindi magari da giocare cc un po' più offensiva con un altro più difensivo vicino ci potrebbe anche stare cosa che invece non accade per il buon Littmannen che era una piaga da icona ed è diventata una piaga da eroe invece bene bene il buon Snyder 4 skill e 5 piede debole rimane un giocatore di stra elite 1,71m può giocare anche cc può fare anche l'esterno sinistro se vi serve per ibridare ma onestamente ve lo sconsiglio giocatore veloce brevilinio rapido molto agile bel passaggio bel tiro come stile di gioco plus c'ha il filtrante poi ha il drive in bianco il lancio lungo bianco anche il cross nonché il power shot tutta una serie dunque di attributi molto molto buoni e ha il regista plus plus da trequartista che nel ruolo secondo me suo ideale è molto interessante quindi Snyder un altro dei top un giocatore che invece potrebbe essere sottovalutato come la Kessler è sto Carvaglio perché sto Carvaglio ne è malissimo è 1,83m è uno dei pochi difensori che attualmente c'ha lo stile di gioco plus del procione quindi attenzione a questo fattore qui in più c'ha lo stopper plus plus che magari per quelli che amano i difensori che escono un po' più alti anche lì vi ci trovate molto bene sincero il buon Carvaglio occhio perché potrebbe essere un giocatore tranquillamente utilizzabile così come può essere utilizzabile il buon Lisa Rasu che nonostante sia 1,70m è comunque un terzino abbastanza performante veloce con buoni passaggi come playstyle plus c'ha la scivolata ma anche il blocco e il procione bianchi come per quanto riguarda il ruolo ha il terzino plus plus che per quanto mi riguarda attualmente uno dei ruoli migliori per il terzino se non fate salire il terzino in maniera automatica l'unica pecca ovviamente è la stazza perché essendo molto piccolino potrebbe un po' soffrire contro gli esterni fisici dell'avversario Rafa Marquez è il gran capitano purtroppo mi verrebbe da dire che è una lose abbastanza grossa perché è giocatore con caratteristiche abbastanza scadenti per il ruolo di difensore centrale ovviamente non devo starvi io a raccontare che mai con Douglas si stesse andando un top assoluto questo se lo trovate fate le piroette al contrario e festeggiate fino a Natale probabilmente così come occhio se trovate questo Kocha perché Kocha è in un gioco in cui mancano i trequartisti e una hit c'ha il trickster plus come playstyle per la finta di tiro quella forte di quest'anno 5 skill 4 di debole 1,73 può fare la TT e le D quindi anche molto facile da ibridare ed è un giocatore che ha un buon tiro un buon passaggio è abbastanza agile e oltre al trickster ha anche la trivela bianca che quindi dà una grandissima mano andiamo a vedere la pagina successiva perché qui troviamo Eden Hazard un altro top assoluto 4 stelle skill e 4 piede debole per lui giocatore introdotto quest'anno Hazard lo conosciamo benissimo fa le S e la S molto veloce buon tiro buon passaggio come stile di gioco plus ha il tecnico ma anche il tiro a giro bianco e il razzetto nonché il trickster per la finta di tiro forte c'ha l'attaccante interno plus plus da esterno sinistro quindi anche lui rientra tra i top così come una carta che invece potrebbe rientrare tra le sottovalutate sto Forlan perché è molto completo è 4-4 1,80 m può giocare anche a sinistra e il power shot quindi diciamo che questa è una versione migliorata di Milito considerando che c'è anche il plus plus sull'attaccante avanzato un giocatore che mi sento onestamente di consigliarvi se lo trovate quantomeno di dargli un try ovviamente stesso discorso vale per company uno dei top assoluti in fase difensiva uno dei pochi con il progione plus questo è come se fosse una specie di saliva misto a Van Dijk veramente molto forte Maritiello Gomez direi che si potrebbe tranquillamente schippare sto Futre meglio sicuramente dei precedenti giocatori però anche qua è un 4-3 peccato il piede debole è vero che c'è il tecnico può fare 150.000 ruoli come playstyle vedete che non ha un granché perché il tecnico quest'anno è un po' nerfato c'ha il razzetto bianco e onestamente magari lo provate però questo non è un giocatore che mi fa impazzire lo provate da attaccante interno plus plus magari a sinistra Francescoli è un'altra carta hidden gem un giocatore che da 3 quartista è stato utilizzato ma avete detto che non vi dispiace 4 stelle skill e 4 piede debole 1,81m può fare anche la TT abbastanza veloce è chiaro che non sarà il giocatore più agile palla al piede vista la sua stazza e in più c'è il tiro a giro bianco e il tecnico il filtrante nonché la calamita plus come ruolo all'attaccante ombra plus plus che è tanta roba quindi anche Francescoli rientra secondo me nei giocatori a cui dare un try sto Tevez purtroppo non si è capito che gli è successo 4 di skill e 3 di piede debole anche lui magari ve lo potete provare però temo fortemente che possa rivelarsi un mezzo flop cosa che invece non si rivela a questo Cordoba che nonostante è un po' bassino viene aiutato tanto dal playstyle plus dell'Aerial per andare a dare fastidio soprattutto sulle palle aeree da calci d'angolo e ha il difensore plus plus che al momento anche questo è uno dei ruoli che preferisco Yapstam altro top assoluto di reparto 1,91 questo è una specie di Virgil praticamente ha quasi tutti i playstyle difensivi e soprattutto quelli che ci interessano perché sto parlando del blocco e del Procione nonché dell'Aerial bianco anche lui stopper plus plus e difensore plus questo è un altro fuoriclasse la George è una carta che onestamente anche qui considerando che vi fa da DC la guardate dite 1,72 piccolina ma abbiamo appena passato Cordoba che è 1,73 e visto che è una carta che ha il Procione plus e comunque 85 di velocità come ruolo c'ha lo stopper plus plus magari per aggredire un po' più alto l'avversario ci può stare andiamo a vedere poi quest'altra carrellata di eroi dove troviamo i primi tre che sono tre grossi skip Berbatov, McManaman e Amsic e poi arriviamo invece scusatemi e Campos e poi invece arriviamo proprio ad Amsic un giocatore che assolutamente rientra nei top, carta clamorosa con quel powershot da giocare sia trequartista che CC veramente tanto tanto forte, si sente fisicamente, ha un gran tiro, degli ottimi passaggi quindi un giocatore che onestamente se avete la fortuna di trovare dovete mettere in campo necessariamente con box to box oppure anche da attaccante ombra come trequartista fregatevene che c'hai la mezzala plus plus Brolin pure è simpatico, rientra un po' nel discorso di Futre perché pure lui 4-3 col tecnico sicuramente utilizzabile occhio anche a questo Keywell perché tra i 4-3 lui c'ha il powershot che comunque può sempre fare comodo quindi anche Keywell un 3 glielo darei così come anche a Rui Costa un 3 gli si può dare, peccato che non abbia playstyle plus c'ha solamente il bianco della trivela che ci può tornare comodo il plus plus come regista, come trequartista e per quello che mi riguarda anche lui può essere utilizzato anche il buon Nakata non si sa mai, è un 4-4, certo lo guardate, dite cavolo ho trovato Nakata però è comunque un giocatore abbastanza poliedrico Yaya Toure ovviamente non vi sto neanche a dire che è un top carta clamorosa questa da giocare mediano in più quest'anno gli hanno piazzato anche il centrocampista di contenimento quindi in fase difensiva vi dà veramente una grandissima mano occhio a questo goal, questo goal perché non è altro che una versione di footer più completa perché da 4-3 passa a 4-4 quindi anche lui può essere tranquillamente utilizzato andiamoci poi a vedere gli eroi 86 e andiamo a concludere questa rassegna perché andando molto rapidamente abbiamo Marchisio, chiaramente un top assieme a Zero Berto Park Ji Sung, peccato che quest'anno non abbia il ruolo del centrocampista quindi è un po' scomodo da ebridare Guti soprattutto da mezzala, cioè da Cici ci può stare con il ruolo impostato del regista e non della mezzala perché sennò si allarga troppo occhio all'Hidden Jam, Giulie, molto agile un buon tiro soprattutto dalla distanza alla Trivela è un giocatore che essendo 4-4 vi consiglio di poter andare a piazzare male invece al Jaber che è il solito giocatore abbastanza inutile, c'ha solo il tiro a giro per quanto riguarda Carragher, ve lo potete provare perché c'è il blocco un giocatore abbastanza automatico molto bene Govoo per quanto riguarda il discorso Keywell, come vi dicevo prima, è un 4-3 ma è il powershot quindi ci sta di brutto occhio a Safara Williams che è un po' come la Kessler potrebbe essere interessante da provare da Cici visto anche il 5 di pede debole Cap de Viglia invece lì a sinistra il solito Toro che secondo me è il più vicino possibile alla carta di Theo Hernandez al momento qui abbiamo Mostovoi che onestamente skipperei Smolarek che non è sto gran fenomeno troviamo poi il buon Ramirez che anche quest'anno visto il playstyle plus dell'intercetto si conferma un top di reparto ed è una carta che onestamente se trovate dovete inserire questo stesso discorso invece non vale per rise perché da TS è un po' lentino magari potreste provare a schierarlo un po' più alto esterno sinistro però con 83 di velocità ed avendo 3 di skill e 2 di pede debole non mi fa proprio urlare di gioia così come skipperei, Kanu, Donovan e non Dudek perché magari in porta si potrebbe anche dare un try occhio a Matuidi Matuidi gran centrocampista c'ha pure il driven pass come playstyle quindi lui se lo trovate lo mettete di centrocampista di contenimento questo Roby King non è affatto male ha un buon tiro, una buona velocità è abbastanza agile 4-4 è abbastanza completo occhio non datelo per sconfitta visto che costa anche 400k la Bonpastor purtroppo si porta dietro i problemi di Lizara Su sia un buon terzino ma è troppo fragile rischia di essere un po' presa a pallate Koet lo skipperei occhio invece a King altro giocatore col procione molto molto performante anche se l'ho trovato al di sotto di Saliba Soskier per lo stesso discorso di prima di Forlan e di Kiewel non male perché c'ha il tiro a giro dalla sua parte Roskicchi skipperei mentre invece Bloomberg una buona carta c'ha una buona trivela è 4-4 è rapido plus quindi da provare sicuramente così come se troviamo allo Yeran si stappa lo champagne Scott troppo piccolina Nur non ve lo commento nemmeno Bisley e Howard sono più che altro utili per linkare le giocatrici americane che vanno di moda in sto periodo nell'ultima pagina poi troviamo Riken, Crouch, Dempsey e Kail che vabbè qua proprio ve lo pietoso ragazzi anche per questo video è tutto come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori chi avete trovato la sfida e se l'avete fatta io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola non mi resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto nel vostro Iberoschi e a presto ciao ciao